Con l'esposizione della bandiera d'oro realizzata da Giovanni De Gara, il maschio angioino diventa simbolo di accoglienza. È il progetto Eldorato che l'artista fiorentino ha realizzato utilizzando teli isotermici impiegati anche per il soccorso dei migranti in mare che hanno già rivestito le porte di diversi luoghi e chiese in città e nel resto d'Italia. L'installazione presentata questa mattina dal sindaco Luigi De Magistris assume in questo momento un significato simbolico ancora più forte. Napoli vuole ribadire che il suo porto è aperto ed è pronta ad accogliere chi ha bisogno di aiuto. Questo progetto l'abbiamo già condiviso, sposato in città, ricordo quando a Via Dumo abbiamo applicato il materiale isotermico, questa coperta color oro del progetto Eldorato in un luogo simbolico della nostra città nel centro storico. Adesso insieme con l'autore abbiamo deciso di innalzare una bandiera, che potete vedere là, che ha un valore sempre universale, questo dell'accoglienza, della fratellanza, dell'umanità e della solidarietà e chiaro in questi giorni assume un valore particolare per quello che sta accadendo proprio in queste ore nel nostro mar Mediterraneo. Quindi Napoli non sarà una città indifferente, non sarà una città complice, non sarà una città connivente e quindi riteniamo che con l'arte, con la cultura e con questi simboli forti si possano anche scuotere tante coscienze.